buongiorno ugo grazie per essere qui con noi lei è il nostro ospite della sezione incontri cinema e arte contemporanea che de blenck cura ogni anno in occasione del bergamo film meeting la ringrazio a nome di tutto lo staff per avere aderito all'evento è un piacere averla qua grazie a voi un piacere tutto mio veramente un artista poliedrico ma tra le tantissime strade in cui si è diramata la sua ricerca indubbiamente il cinema ha avuto un ruolo importante un centro molto curioso dal mio punto di vista ancor più visto retrospettivamente anche perché lei ingaggiava tra gli attori alcuni dei suoi colleghi dell'epoca suoi amici tra cui ad esempio lucio fontana e enrico bai c'è vero tutto vero tutto vero sì e vuole che risponda già così sì effettivamente il cinema nel diciamo nell'ambito del mio lavoro che durante la conversazione che rirò meglio si è sempre sempre stato molto articolato ma per diciamo per una scelta molto precisa direi non dico ideologica ma ideale sì cioè l'idea dell'artista che non si limita a lavorare con una tecnica sola che fa ripete sempre la stessa la stessa opera in che questo ha tutto vantaggio del fatto di essere riconoscibile perché il segno è sempre quello eccetera ma avevo pensato sempre di più forse anche perché queste cose le avevo studiate che il modello ideale dell'artista era quello dell'intellettuale cioè un artista che innanzitutto si volesse misurare con le teorie ma si volesse misurare anche con le discipline diverse è chiaro che il cinema fin dall'inizio è stata non solo una passione ma soprattutto un'esigenza l'esigenza di uscire appunto dal ristrettissimo ambito del quadro della ripetizione del quadro come dicevo prima ma in particolare con l'idea e poi questo lo diremo magari meglio l'idea che io col cinema ci abbia trafficato sin da ragazzo nel senso che essendo andato molto presto negli stati uniti vedevo avevo visto e poi l'ho visto meglio dopo cosa facevano i giovani intellettuali americani quegli anni gloriosi tra la fine degli anni sessanta e il resto degli anni settanta e poi così via ma particolarmente all'inizio degli anni settanta e alla fine degli anni sessanta dove io abitavo sono stato parecchio a New York vedevo che il cinema lì io parlo adesso quando parlo di questo di cinema sto parlando da una parte del cinema che noi chiamiamo abbiamo chiamato in tanti modi sperimentale l'avanguardia degli artisti vittorio fagone con cui avevo fatto una cosa bella a bergamo anche con vittorio fagone sul mio cinema io avevo fatto una mostra lì al museo si chiama il famoso museo alla collega no no quello su storico il museo vabbè adesso glielo dico poi e tra e poi avevamo fatto delle belle serate di cinema insomma fin dall'inizio questo cinema chiamato in tanti modi era un po una via di uscita appunto da quello che si capiva subito che era il mondo stretto dell'arte cioè quello appunto del 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 quadro e della stampa del disegno eccetera io l'avevo visto in america a fare questo l'avevo visto poi dagli artisti del cosiddetto new american cinema l'avevo conosciuto molto bene jonas meccas piedam sydney regina corwell l'avevo conosciuto uoro l'avevo conosciuto un po di gente iocono e poi siccome le mie attitudine era in quel momento anche di guardare un po al gruppo fluxo solidi di fluxo il quale gruppo era sconclusionato al punto che comprendeva anche diciamo una sezione cinematografica bizzarra tipo appunto i film di break di ocono eccetera eccetera quindi mi ero subito appassionato e mi è sembrata una salvezza diciamo in quegli anni il cinema ed allora non solo ho realizzato poi molti film di cui magari diremo ma ho anche perorato un po la causa del cinema degli artisti intervenendo facendo e lavorando portando perché all'epoca questi film si portavano faticosamente in giro ma io gli artisti erano facilitati rispetto rispetto agli altri perché siccome ho fatto faccio ancora per fortuna tante mostre in giro per il mondo ho sempre pensato ogni volta dicevo sì però io fare la mostra la faccio però dobbiamo proiettare anche i film quindi in questi film è finito che li abbiamo proiettati veramente in tutto il mondo in tutti i musei e continuiamo a farlo richiedono ancora spesso ecco sono troppo sto andando troppo lungo così no ma benissimo ma approfitto per inserire la seconda domanda sul suo sito nella sezione cinema si trova questa sua definizione il mio cinema è una sorta di acculturazione casalinga dai contorni mobili ce la può commentare per favore se diciamo che è una frase un po sgangherata così però vuol dire questo in sostanza io tra l'altro appunto scrivo scrivo su anche su dei giornali tipo il foglio si è scritto su quello della serie c'è scrivo di cultura di cui tu faccio le pagine grandi della cultura e proprio recentemente credo che tra pochi giorni c'era un pezzo sulla figura dell'intellettuale intellettuale che per salvarsi deve essere un po un dilettante questa parola che sembrerebbe far paura è in realtà una salvezza perché tutto il new american cinema tutto il cinema degli artisti io sono stato amico di man rai andavo a trovare maria a parigi lui mi ha dato un testo per fare un film che io ho fatto revolving doors beh maria era un bellissimo magnifico di professionista dilettante in qualche maniera sa perché dico dilettante dilettante vuol dire che è uno che appunto è il contrario di quello che dicevamo prima il professionista che fa sempre la stessa cosa che non sbaglia mai che precisissimo e che segue il mercato eccetera eccetera diciamo ma non è questo atteggiamento del dilettante non l'ho inventato e lamentato dei grandi studiosi tipo julian ben da o eduard saeed eccetera hanno scritto ampiamente dell'idea dell'artista dell'intellettuale in generale ma io l'ho ampliato quella della figura dell'artista che deve essere un dilettante è pronto a cambiare idea è pronto a una diciamo un atteggiamento che che si dice comunemente eclettico anche la parola eclettico anche che ha da fare molto col cinema l'eclettismo è sicuramente un atteggiamento non delle persone che sono eclettiche non sanno cosa fare quindi passano di palo in frasca e cambiano no l'eclettico è uno che vuole rivedere quello che fa cambiare modificare cambiare strada è più disponibile mentre l'intellettuale rigido fa quello basta ips e dixit no ecco quindi in quel senso lì quella frase che lei ha citato vuol dire casalingo casalingo e poi dico la verità i primi film che facevamo si giravano in 16 mm poi si poi si montavano quasi in maniera casalinga insomma con le piccole movioline e facendo dei collage con lo scotch eccetera e si è sempre fatto così all'inizio poi certo piano piano c'è stato più un atteggiamento professionale anche da parte delle tecniche insomma però mi piaceva questo cioè la dimensione vorrei dire quasi individuale non quelle finte dimensioni corali che dicono grandi sentimenti e cose meravigliose e che se poi in realtà più delle volte sono dei dei luoghi comuni e invece proprio quella dell'intellettuale che ne faccio un esempio che sembrerà stupido pensi a albert einstein e che ovviamente famosissimo per le sue ricerche scientifiche no sulle sue foro è uguale mc al quadrato eccetera eccetera beh posso dire che la sua influenza è più grossa come uomo di pensiere come dilettante come persona eclettica quando ha parlato contro la guerra quando ha detto delle cose eccetera cioè ha avuto più riscontro della società quell' atteggiamento libero da appunto dilettantesco quello che a me è sempre piaciuto dove verrà pubblicato questo articolo io scrivo per il foglio particolo il sabato il foglio fa questo inserto che secondo me è uno dei più belli inserti dei giornali italiani fa questa paginone su un pagina 16.000 battute ma glielo mando e poi glielo mando assolutamente a un titolo provvisore che sì ma io sono sei anni che scrivo per il foglio e ho fatto un libro con ai naudi che è uscito da poco che si chiama per non morire d'arte e questi articoli adesso usciranno poi un grosso libro perché essendo sei anni sono articoli molto grandi molto lunghi e tutta una storia diciamo da una parte se ci fosse un titolo generale sarebbe la solitudine dell'artista in qualche maniera in senso positivo ma anche in senso malinconico perché la malinconia quella di durer non è una malinconia triste non è una malinconia patologica una malinconia di chi ha voglia di ragionare di pensare individualmente di non seguire certe ideologie di massa che poi alla fine sono generiche eccetera a me sembra pensiamo ai grandi intellettuali del novecento francese ai sartre il cambio i personaggi lì erano personaggi individuali che facevano le loro scelte giuste o sbagliate che fossero insomma ma avevano delle diciamo delle degli atteggiamenti enormemente profondi e personali e al di fuori delle regole generali soltanto quando l'intellettuale al servizio dei giornali della televisione queste sceneggiate che si fanno in televisione dove tutti vanno a dire delle scemenze quelle sono cose che non servono a niente sono dannose alla figura dell'intellettuale l'intelletto infatti questo pezzo che ho scritto si chiama provvisoriamente silenzio intellettuale ok ma di leggerlo sì ma glielo mando senta lei prima ha menzionato il cinema degli artisti di cui lei è stato uno dei principali esponenti che cos'era questo cinema degli artisti il cinema degli artisti era appunto l'idea che il medium per esprimersi non per un artista non era soltanto quello specifico cioè il pennello il colore l'acquerello la tempra la tela l'oggetto la scultura il bronzo eccetera ma era qualcos'altro d'altronde non avevamo inventato noi se noi pensiamo io l'ho citato manrai ma che che ha studiato il cinema l'università con gianni rondolino che sono i più grandi critici italiani il cinema sperimentale era nato appunto pensiamo tutto il grande cinema surrealista tutto il grande cinema dadaista diciamo c'erano state poche cose gli atteggiamenti di marcel du champ eccetera un cinema che da un certo punto di vista e soprattutto quello surrealista è un cinema enormemente libero fatto che non la cui teoria di base era che non era la tecnica la cosa più importante ma il cinema in senso espressivo cioè usare usare la cinepresa come un pennello ecco in qualche maniera se uno potesse dirlo e questo significava ovviamente partire da un altro punto di vista lavorare con piccole cineprese quasi quando si poteva con 16 mm cinema d'artista in 35 mm se ne sono visti pochi e così appunto si lavorava in maniera enormemente libri per esempio come lei sa ho lavorato molto usando come attori diciamo come personaggi ho lavorato molto con degli artisti come attori ho lavorato con fontana con bai con pistoletto con boetti eccetera eccetera quindi era anche un modo per fare interagire il mondo dell'arte che in sostanzialmente invece è sempre molto rigide molto 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 stazionario e basato su soprattutto sul luogo comune su luoghi comuni o su diciamo ordini assiomi completamente sbagliati secondo me cioè tutto ciò che tutto ciò che costa vale quindi ciò che vale costa e vale solo quello che costa eccetera il cinema non ha mai avuto questo atteggiamento sa perché perché prima di tutto il cinema d'artista non è mai stato fatto a scopo di lucro mentre se chi fa i quadri vuole vendere lo scopo principale era di venderli quali vendere di piazzare nei musei nelle gallerie privati eccetera cinema d'artista è sempre stato fatto sul volontarismo io sono conosciuto bene la tutta la struttura del cinema americano e appunto io ho fatto un film anche con allen ginsberg tra l'altro beh naturalmente tutti quei ragazzi tutti quegli artisti libri giovani artisti all'epoca non lo facevano c'è stato solo world che poi aveva spinto il pedale un po da produrre dei film di distribuzione eccetera ma ma non comunque non sono mai stati fonti di business mentre le opere d'arte sì quindi aveva già questa purezza che a me piaceva parecchio insomma quest'idea di lavorare su un tema che era il di fuori del commercio insomma che era il tema che aveva detto di sciam diceva io quando ho fatto i miei ready mails i miei oggetti già pronti la mia idea era che fosse il che fosse impossibile traficarli e venderli si era sbagliato anche lui però aggiungo una domanda anche se ha parzialmente già risposto la sua ricerca cinematografica era attraversata anche da una critica infatti al sistema dell'arte e dei suoi codici dico bene si dice bene a certo certo sì ma io continuo a fare a dire insomma questo non sono mica un diciamo un lupo solitario che combatte del bar del bar in linea vento ma è talmente non lo dico solo io ma lo dicono molti studiosi a livello internazionale eccetera che il sistema della poi va beh se vogliamo trovarci del mille motivi anche l'italio filosofico di dal passaggio dal moderno al post moderno eccetera eccetera va bene ma non è solo quello cioè l'idea che invece il sistema dell'arte quello che un grande filosofo americano dell'arte che era arthur danto aveva chiamato l'art word cioè il mondo dell'arte è un sistema basato essenzialmente sul diciamo sul sullo scambio economico con quell'assioma che l'ho detto prima ma soprattutto sul fatto che si bastava è sufficiente imporre dei valori e dire che una cosa costa tanto per dire che uno che è un anche uno perché un'opera d'arte vale in quanto valore economico questo non è mai non è mai interessato né alle avanguardie storiche né agli artisti che lavoravano sulla scorta di teorie che lavoravano come degli intellettuali e serve è servito molto agli artisti che hanno lavorato nel gregge che hanno seguito queste direttive scritto anche non scritto ma anche scritte però e hanno lasciato diciamo hanno e hanno come dicevo il mio mio caro amico jean baudrillard hanno portato all'arte sistema dell'arte a diciamo a un decoro esteriore del sociale a una distanza dalla società non è vero che l'arte deve sposarsi diceva l'arte deve sposare la vita se c'è non era vero niente l'arte non ha sposato nessuna vita l'arte una sfera se a parte fatta per il collezionismo che si occupa essenzialmente di sapere il valore di trafficare di comprare come investimento si figura comprare come investimento nessuno è in grado di dirlo anche perché sono quegli investimenti che salgono e scendono e che non hanno mai una consistenza reale insomma non so se le ho risposto ecco io ho sempre lavorato un po su questi temi ho fatto sempre in più ho fatto un altro libro con schierac si chiama maledette belle arti anche che raccoglieva una serie di testi di articoli così si senta dal suo punto di vista che differenza c'è ammesso che esista nel rapporto che avevano tra di loro gli artisti negli anni 60 e 70 e oggi vabbè sia una domanda intelligente gli artisti noi per esempio gli anni 60 e 70 ci si incontrava sempre per esempio a torino io boetti ci vedevamo sempre andava uno studio il pistoletto paolini il gruppo ci si incontrava si facevano mostre insieme eccetera diciamo erano già gli anni in cui non si scambiavano più le teorie perché teorie non ce n'erano già più però era certamente tutta la tradizione dell'arte d'avanguardia come si diceva una volta dal novecento in avanti è fatta di gruppi che si scambiavano teorie che si incontravano il modello ideale era il surrealismo che addirittura aveva istituito proprio una specie di come dire di continua revisione delle posizioni mescolandoci la politica gli artisti fra di loro si scambiavano idee o si scontravano sulle idee eccetera paradossalmente e si incontrava anche in luoghi particolari beh tutti lo sanno i famosi caffè de flore e de mago a parigi incontravano tutti gli artisti più importanti del novecento e anche intellettuali scrittori eccetera poi da seguite tante cose non abbiamo il tempo di spiegarci ora tutte le discipline si sono come specializzate e come lei quando va dal medico e ha male a un orecchio va dal medico che sa tutto dell'orecchio ma le assicuro che se lei ha male al ginocchio quel medico lì del ginocchio non sa niente quindi non c'è più una visione umanistica generale diciamo nella nella nelle nelle in tutte le discipline culturali scientifiche artistiche eccetera ognuno sa quella sua cosa lì così quindi questo ha portato il fatto che gli artisti in realtà teorie non ne sono nate e quelle che sono nate erano povere molto modeste pensiamo alle teorie dell'arte povera ridicola quelle della transavanguardia modestissime eccetera non erano più i grandi manifesti del futurismo o del del surrealismo i manifesti rivoluzionari del dadaismo eccetera erano manifesti così sono di dilettanti ma dilettanti nel senso peggiore del termine quindi quindi non hanno lasciato niente di quindi gli artisti non hanno avuto modo di scambiarsi gli artisti sono chiusi nei loro atelier e hanno lavorato come in certe piccole aziende praticamente ognuno ha fatto per sé non mi risulta anche carteggi fra artisti se ne sono visti pochi si vanno a resumare il carteggio di cezanne di van gogh o che ne so anche gli artisti del novecento di carrà ma questo e quindi gli artisti non si sono più trovati ognuno si fa i fatti suoi e il risultato è una frammentazione enorme di divisioni tutte spiegabili comunque scrivendo di lei enrico bai sostiene un interessantissimo parallelismo tra i fotogrammi intesi come tessere ottiche e i puzzle ingranditi così come lui definisce i suoi quadri mi domando che dialogo intercorre tra la sua pittura e il suo cinema ma diciamo che dialogo intercorre naturalmente nel lavoro di un artista diciamo intercorre tutto cioè ogni cosa non è per lo meno per quanto mi riguarda ho sempre avuto la sensazione ho sperato di non sbagliarmi di avere di dare l'idea di far sempre la stessa cosa tra virgolette nel senso che facendo il vetro a murano o la scultura in bronzo o il quadro o il cinema c'è un'affinità è chiaro che ogni medium ha una una tecnica sua di esecuzione e quindi quando parliamo di cinema il fotogramma e naturalmente immaginiamolo come fosse un piccolo quadretto insomma sostanza ma una una un momento di visione in cui in quei fotogrammi ho cercato qualche volta certe volte no quando la racconta più e più quando più narrativo è chiaro che allora lì è più difficile ma certe volte le immagini sono proprio scelte un po in maniera quasi grafica in quasi che ricorda un po certi colori dei miei lavori certi atteggiamenti e poi naturalmente era soprattutto l'idea stessa del di produrre una un oggetto espressivo che tutto sommato dovrebbe essere lo stesso un po anche mi quadrano un po questo gusto ironico un po divertente un po un po di fuori dal dagli obblighi del mercato eccetera insomma quindi non mi sono mai interessato appunto di di seguire pedisseguamente quindi ho messo ho messo in circolo tutto quindi secondo me c'è un rapporto stretto alla ragione vai con cui ho lavorato tantissimi anni con vai mi ha fatto film lui è stato uno dei migliori attori che io ho avuto ci racconti un aneddoto su baio su fontana o qualcosa di particolare che le torna in mente delle vostre registrazioni a vabbè con fontana con bai una volta siamo andati andavamo a trovare lui era uscito dall'ospedale che era malato frittano aver malato di cuore era stato in ospedale si potrebbe trovarlo nella sua villa tra l'altro nel sua villa di comabio dove io fra due tre mesi faccio una mostra a casa fontana si è ordinario e si fanno una mostra all'anno 12 mostra fare una mostra mia poi faranno un'altra mostra di bai poi ho fatto delle mostre da da maino eccetera sia un povero bello mostrini e anche belle grandi e quindi andavano trovare lucio fontana che era una persona squisita educatissimo gentile eccetera e allora lui tra quello che gli aneddoti sono che lui era disponibile a qualsiasi cosa non è con bai mi ha detto allora andiamo a bai avere un collezionista di divise francesi militari degli anni dell'ottocento andiamo a prendere divisa e ti vediamo mettiamo a lucio dai 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 allora siamo andati a prendere ste divise a casa di bai ne avevano riempito una macchina di divise siamo andati in tre o quattro la e lui è stato del contentissimo e infatti deve fare la piccola vedetta lombarda giocavano e non ha detto molto molto simpatico che vai naturalmente che aveva un giocarellone e siamo divertiti tanti aneddoti tantissimo abbiamo girato il mondo andavamo in america a fare mostre conferenze a parigi e bruxelles abbiamo fatto veramente tante cose sempre sempre portando film anche naturalmente certo senta io so che lei ha uno studio di una rara bellezza a torino sarei curiosa di sapere che rapporta ha instaurato negli anni con il suo ambiente di lavoro si guardi lo studio per me non è tanto e soltanto il luogo dove si lavora io l'ho costruito ho avuto la fortuna di avere un trovare un grosso messo anni nel cuore di torino un grosso stabile che ho tutto ristrutturato e fatto così seguendo un po l'idea che avevo io quello che faceva comodo a me dell'atelier che ha una parte cinema per esempio una collezione di 5 600 cineprese 16 io ho fatto il presidente anche del museo nazionale del cinema per 56 anni io 5 600 cineprese sopra quindi ho poi tutte le macchine le cose il piccolo cinemino quindi ogni zona un'utilità perlomeno fittizia ma qualche volta anche reale rispetto alla disciplina che voglio fare cioè una parte c'è una specie di esposizione dei lavori vari c'è una parte dove si lavora quindi è un atelier poi io quello ho 25 mila libri questo sì e ho i libri delle avanguardie storiche o tutti i libri tutti i libri ho tanti libri futuristi libri dell'avanguardia russe i libri surrealisti libri dadaisti di switters e tanti libri miei perché io ho fatto veramente tanti libri più di cento libri ecco quindi qui io ci raduno un po tutto è un piccolo e un piccolo cosa vuole il mio piccolo regno serve a me insomma naturalmente le persone piace mi invito tutti a venire una volta non vedo l'ora non vedo l'ora davvero grazie dell'invito le sue collaborazioni spaziano dall'arte al teatro alla musica oggi dal mio punto di vista il mondo dell'arte è molto ripiegato su se stesso cosa che l'ha anche condotto ad un certo isolamento prima di tutto vorrei sapere se lei conviene con questa lettura in seconda istanza le chiedo quanto e come hanno influito queste plurime collaborazioni che lei ha avuto nell'arricchimento della sua ricerca sì dunque mi risintetizzi la domanda che stavo pensando un'altra cosa che le sue collaborazioni appunto sono state plurime il mondo dell'arte oggi invece mi sembra più ripiegato su se stesso e appunto dal mio punto di vista questo l'ha condotto anche ad un certo isolamento io sono sempre molto colpita dal fatto che gli artisti non vengano invitati a prendere posizione a parlare intervistati per saper le loro opinioni o almeno quanto io ritengo sarebbe utile sarebbe importante accadesse quindi le chiedevo se conviene con questa lettura e in secondo luogo quanto hanno influito le sue collaborazioni nella sua ricerca si guardi sì no lei ha perfettamente ragione gli artisti per una serie di ragioni che se vogliamo sono tutte spiegabili non so se abbiamo voglia e tempo di spiegare non credo da una parte si sono totalmente isolati innanzitutto proprio per perdere un minuto e dire che dal momento in cui la filosofia a un certo punto aveva detto che la modernità era finita che la storia non c'era più eccetera eccetera che era arrivato l'era post moderno ormai 50 anni fa post moderne in cui poi i valori erano uguali perché tanto non c'era una la storia non era alla fine del nostro percorso eccetera bene gli artisti e che naturalmente le discipline erano diciamo tutte equivalenti no tutto sommato non c'era poi una grande differenza fra chi era un artista e chi non era un artista se pensiamo c'è stata una biennale del 2013 nella quale veramente di opere d'arte non se ne esponeva neanche una bastava che uno avesse fondato una religione un altro che sapeva fare la punta alla matita un altro che vendeva le scarpe cioè quindi diciamo tutto era arte e nessuno era arte è chiaro che a questo punto le discipline che gli artisti non vengono convocati chiamati prima di tutto perché si è dissociata l'idea di artista come intellettuale c'è di uno che abbia voglia di studiare leggere come se facevano gli artisti nel passato come sono stati fatti e tutti i movimenti della manguarda storica si sono basati proprio su quello capisce mi sente sì sì la sento e capisco ecco quindi dicevo a questo è uno dei motivi per cui diciamo che l'artista non viene convocato ma convocato per dire cosa cioè visto che poi l'arte è considerata una sfera se vogliamo in talmente imperfetta che è perfetta sta come una palla grigia in un angolo di un salotto ma non si ma non la si non la si consulta è un decoro perché se l'arte è soltanto investimento se l'arte soltanto decoro del salotto se l'arte soltanto questo e quello ma niente di più profondo niente di più reale niente di più attivo nei confronti del sociale eccetera beh allora di cosa che chiediamo cosa gli artisti cioè io so benissimo e lei lo sa benissimo quanto me che se andiamo a prendere i saggi gli scritti dei grandi dico dei grandi teorici del surrealismo del dadaismo ma anche di altri avanguardi eccetera giuste o sbagliate che fossero però avevano una visione della vita cioè futuristi erano la macchina il mito della macchina la modernità il futuro sarebbe stato in un certo modo per i suoi realisti era la psiche era l'interesse diciamo oggi se uno è capace di trovare una direttrice lungo la quale seguire il discorso e su quella base riuscire a portare gli intellettuali a interloquire a parlare non vengono veniamo con io sono da uno di quelli ogni tanto vengo convocato proprio perché scrivo i libri eccetera eccetera ma però non abbiamo peso cioè infatti questo pezzo che inizio si chiama silenzio intellettuale l'intellettuale per quanto si sforzi è considerato un di più nel sociale sono altri valori insomma che che contano insomma vengo che crede che contino insomma ecco ha menzionato la biennale che tra poco tra l'altro ci sarà ma come se io vado sempre al biennale vado sempre vederla certo certo ma però con poco interesse cioè raramente scopro sempre qualcosa che mi interessa ma voglio dire in linea generale anche sono mostre che sono un po invecchiate tantissimo anche quelle del non parliamo di quella del cinema che la biennale venezia del cinema è veramente invecchiata tantissimo e specialmente questa cioè la nostra quella di venezia ma ma anche di anche la biennale arte fatta in quel modo con quei padiglioncini qui e la cioè voglio dire anche lì c'è una disunità e intorno a raramente perché lì ci vuole anche dire ci vogliono dei grandi pensatori che sappiano è difficile perché dovremmo tornare alla domanda base alla quale nessuno voglia di rispondere che dice ma in fine coni che cos'è l'arte insomma cioè che cosa serve l'arte ce ne bisogna ritornare quelle domande che sembrano ingenue ma che sono la base della diciamo della della possibilità che l'arte abbia un senso che l'arte esista che sia e che sia attiva insomma in qualche modo ecco certo nel corso della sua carriera sono stati anche molti gli incontri tra il mondo del commercio e la sua poetica mi riferisco alle collaborazioni con campari ma anche con la swatch come è riuscito a coniugare questi mondi che beh diciamo il tema è un tema secondo me classico del mondo attuale nel mondo contemporaneo e non deve fare specie il fatto che l'artista si ricolleghi cioè l'artista non è un sacerdote che celebra un mito che conosce solo lui e per cui il mondo è il diavolo e deve stare lontano poi chiaramente ognuno lo interpreta come vuole e non è neanche così disdicevole rispetto al mondo del pensiero astratto in qualche maniera gli artisti per esempio ripeto alcuni avanguardi che tutti conosciamo i futuristi ma anche gli altri hanno sempre cercato un rapporto stretto col mondo produttivo perché era anche un modo di portare l'arte fuori dagli atelier fuori da questi musei che sono spesso frutto di inquinamento culturale e che è frutto invece di anche lì sulla questione del museo piccola parentesi il museo non è più il luogo di ricezione finale dove si celebra la gloria di un artista è diventato il luogo di promozione iniziale si può prendere una persona che non ha mai esposto e il museo gli fa da trampolino di lancio quindi portare l'arte fuori da questo mondo lo si fa in maniera lo si può fare in maniera diciamo diciamo gloriosa come aveva fatto de pero per esempio con campari che aveva sostanzialmente si era inventata tutta la comunicazione della campari ma mica solo de pero se pensiamo a tantissimi artisti nel mondo lo stesso uoro gli stessi cioè quindi voglio dire io ciò l'ho fatto sempre molto molto volentieri e da ed è come dicevo meno disdicevole perché uno pensa beh lo si fa soltanto per poter guadagnare ma non è vero non è vero a volte io le dico la verità a volte preferisco fare un lavoro ben fatto con una grande azienda come ho fatto con swatch abbiamo fatto un'operazione soprattutto di taglio culturale non sembri che abbiamo con piergiorgio di freddi a parte che avevo già disegnato alla fine degli anni per la fine del 90 per una mostra si chiamava swatch a motion avevo già disegnato due swatch e loro avevano anche lavorato con alcuni artisti con paladino eccetera poi invece siamo andati avanti per i 35 anni di swatch io avevo lavorato avevo fatto un libro con un libro importante un grosso libro con delle tavole stampate a mano sulla sezione aurea su questo numero f numero fino che 1,618 numero infinito poi allora con con swatch che celebrava i 35 anni abbiamo fatto o fatto questa grossa mostra ginevra tutta dedicata ai numeri con tutte opere dedicate ai numeri con un testo di piergiorgio di freddi eccetera ecco la produzione di due swatch la collezione eccetera eccetera quindi non mi pare che sia una cosa io trovo che sia un modo allora bisogna riuscire disposti qui sarebbero molto lunghi generale c'è la assoluta questione dell'arte alta e l'arte bassa in high and low questa mostra mitica che era stata fatta nel 90 al moma di new york dove si metteva in relazione cioè si diceva una volta che l'arte alta era quella aulica prestigiosa che naturalmente era intoccabile eccetera eccetera poi c'era l'arte dei poveretti l'arte bassa cosiddetta quella che il cinema di serie b per esempio eccetera beh era ora di rivalutarle invece queste cose infatti il cinema sperimentale l'ha rivalutato molto ma anche il cinema to cure l'ha rivalutato quindi insomma per concludere io sono stato con campari io ho lavorato tantissimi anni anche con campare ancora facciamo cose ho lavorato però quando c'è stato solo fatto delle delle auto da ho fatto una moto da corsa per ducati ho fatto una poche a pezzo unico cioè mi è sembrato bello sempre che l'arte appunto come dicevo prima uscisse da quelle strettoie dell'atelier che per cui è un fatto perché poi restando chiusa dentro e non era poi in realtà spesse volte un fatto così era un fatto intimo ma mai di introspezione spesse volte l'artista stava lì chiuso perché credeva di essere un mondo lui e che tutto il resto non servisse a niente quindi era un modo di misurarsi con le cose insomma la mia ultima domanda sarà proprio sul catalogo di swatch e su o di freddi però quello che lei ha detto adesso mi ha dato lo spunto per chiederle un'altra cosa stava parlando del museo del luogo espositivo ogni tanto l'impressione me lo stava se ho capito bene anche certificando lei adesso che i musei funzionino dal trampolino di lancio ma anche le gallerie il solo fatto di essere esposti all'interno di alcuni luoghi preposti all'arte diventano insomma delle garanzie di vendibilità e anche quello che lei diceva prima con associazione al valore dell'opera un suo commento su questo e aggiungo questa domanda secondo lei invece quando un artista collabora giustamente come diceva lei con le grandi aziende possono essere delle collaborazioni come lei ha avuto molto proficue molto fruttuose io credo ma mi corregga se sbaglio che invece non ci può essere questo velo di protezione nel senso se il lavoro ha una validità emerge e non c'è contenitore diciamo etichetta che tenga in quel caso è chiaro giustissimo l'arte viene viene invecchiata artificialmente come si direbbe oggi come dire io cioè è chiaro che il museo è diventata una struttura a parte che i musei in generale ci sono fior di studi sui musei fatti da janclair o fatti da altri grandi studiosi dopo questo museo è diventato il supermercato delle arti baudrillard per esempio detestava pompidù detestava questi spazi che sono fittiziamente popolari dove la gente va per obbligo per passare non so bene che fare eccetera ma quasi mai per per capire per studiare perché eccetera quindi il museo è diciamo è una è una è una camera di come dire di di enfatizzazione di fenomeni quasi sempre quasi sempre non è vero sempre spesse volte a scopo eminentemente commerciale nel senso che appunto come dice lei è una cosa esposta al museo acquista subito un valore perché questo lo si vede una volta il museo era il luogo di destinazione finale quando un artista era arrivato alla fine della carriera e noi quando eravamo giovanissimi lo dicevamo sai come al museo ma poveretto come mai al museo vuol dire che non c'è più niente da dire eccetera invece no adesso il museo ti va a prendere qualunque giovane gli fa subito una grande mostra e lì il mercato anche perché i musei lavorano con sponsor privati anche se e ha bisogno di sponsor privati i quali sono sempre ovviamente interessati a promuovere qualcosa i musei attraverso dei personaggi che sono dei finti degli finti critici sono dei cosiddetti curatori i cosiddetti curatori in realtà sono quelli che mettono il rapporto artisti con museo con istituzioni eccetera a scopo di lucro ovviamente quasi mai infatti raramente si sono viste grandi esiti di studio o di proprio perché ma non ne facciamo una colpa a nessuno diciamo è che proprio l'epoca che viviamo è un'epoca che ha azzerato diciamo la possibilità che l'arte viva su dei valori su dei valori di non dico perenni ma che comunque a lungo a lungo termine le dirà ma non è vero è sempre stato così ma non è vero invece no che non è mai stato non è stato proprio così ci sono poi qui sarà colpa diciamo del 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 tempo del del tempo che viviamo insomma del pensiero che governa le nostre nazioni lo vediamo in questi giorni che quello che governa le nazioni spesse volte sono degli esiti politici assurdi del ritorniamo con le guerre eccetera eccetera quindi non non governa il buon senso e la e la cultura governa l'internazionalità eccetera ma l'arte appunto per essersi isolato anche per esempio anche sul fatto io stavo studiandomi adesso volevo fare un pezzo sui glielo dico francamente sul in anteprima sui disastri della guerra di goia per esempio pensiamo quanti artisti in via di ragionamento di fede si sono dedicati proprio a mettere in evidenza i disastri della guerra diciamo ma li contiamo sulle dita di una mano forse giri con la zantra della medusa e poi che ne so picasso con ghermica ancora più o meno anche lui più o meno picasso con ghermica oppure cioè voglio dire l'artista che che rinuncia a qualcosa e si dedica al diciamo al sociale in maniera ampia in maniera importante eccetera beh l'artista non continua a fare fare il suo lavoretto tanto importante che vende il suo quadretto eccetera eccetera quindi c'è anche questo velo di malinconia che avvolge l'arte dal quale ogni tanto emerge qualcosa e qualcuno ma è normalmente viene con non smuove le acque insomma in qualche maniera ecco ma questo che stava dicendo adesso dedicarsi appunto al lei l'ha definito il proprio lavoretto diciamo la propria ricerca ma non essere attenti a quello che succede nelle dinamiche sociali non crede sia eh il motivo poi per cui appunto gli artisti non vengono ehm sì non c'è sì non c'è non c'è passione per verso il sociale ma perché questo perché l'arte non mica lo sto inventando io ma cioè la riprova è la fronte al volto di tutti l'arte è un mondo a sé si è isolato è un mondicino chiuso dove l'artista vive nel suo mercatino nelle sue cose eccetera e l'arte non è non è una passione sociale ma non dico solo passione non intendo politica o o ancora di più ma proprio voglio dire il fenomeno artistico intanto spesse volte un fenomeno più esteriore più ehm più fatto di ripetizione di formule non voglio non cito nomi ma lei li pensi lei li conosce bene artisti che vanno avanti tutta la vita produrre sempre lo stesso quadretto più o meno più grande più piccolo più nero più lungo più ma sempre quella che roba lì non c'è alla fine ehm invece no invece l'artista deve misurarsi con la contraddizione deve 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 diventare insignificante per se per significare perché se è già tutto stabilito se l'artista nel la controprova è che se noi pensiamo a fior di artisti completamente dimenticati perché la storia dell'arte poi è la storia delle dimenticanze non è la storia delle delle riconoscenze pensi a quanti a io ieri sono stato a una città che si chiama canovara che è una città bellissima fra l'altro eccetera che ha due musei e molto belli uno museo d'arte moderna e l'altro ecco il ricetto dove hanno un altro bel museo di una collezione di di opere ottocentesche ma di grandissimo livello beh io devo dire che mi sono ritrovato io non sono un laudato tempo risacti non c'è una che di qua una volta era meglio mancherebbe ancora anzi però lì ho visto da di nuovo di la foga che certi artisti anche di nomi sconosciuti dimenticati l'interesse che avevano per una ricerca la passione per lo vedevi la passione di di con generale del sociale che sotto ci fosse qualcosa di più che la ripetizione del quadro poi naturalmente si cantava tante opere kitsch tante opere di maniera anche all'epoca ma voglio dire l'artista non so prendiamo pelizza da volpevo da volpedo non era solo o i stessi macchiaioli non erano solo degli artisti che ripetevano dei modelli così come hanno fatto poi gli impressionisti tanto elogiati in tutto il mondo eccetera che poi in realtà dei modelli banali e ripetitivi no in confronto a van gogh per intenderci di quale tra l'altro poveretto non ha mai venduto un quadro ma siccome lui era un intellettuale che parlava cinque lingue scriveva cinque lingue ed era un grande studioso eccetera ed era un uomo parte i suoi problemi personale era un uomo che approfondiva il discorso quando faceva una cosa voleva fare una cosa eccetera non ripeteva una formula eccetera beh risultati sono stati quelli no quindi oggi più che mai o l'arte decide di ritrovare delle formule di pensiero e trovare delle linee eccetera per essere guida di quel per lo meno di se stessa altrimenti che guida è scusi cioè è la guida di un mercato che ripete ma che poi dimentica appunto perché degli artisti che se è vero che valore il prezzo è uguale al valore allora guardi quanti valori sono stati gonfiati e poi subito dimenticati quanti investimenti sono stati sbagliati gente che ha creduto di comprare l'arte per investimento si trovate un pugno di mosche questa è la verità io non sono mica savonarola che giordano bruno anche se sto facendo un monumento giordano bruno io per una città importante ugo lei è generosissimo nelle risposte e la ringrazio perché l'intervista è bellissima però il tempo è tiranno per devo fare un'ultima domanda parlavamo prima della swatch proprio per il dialogo della swatch e la mostra a ginevra il testo introduttivo è stato scritto dal matematico pier giorgio di freddi come ricordava anche lei che se non sbaglio anche un suo amico molto sì ne leggo lo stralcio finale e poi le chiedo di commentare lo scontro tra questi mondi diversi ma fini che sono l'arte e la matematica e le chiedo anche che valore aggiunto lei pensa ci sia nell'avere il contributo teorico di qualcuno che sia esterno al mondo dell'arte anziché appunto coinvolgere sempre curatori direttori di museo storici eccetera leggo lo stralcio finale rappresentare il mondo attraverso la sua vera essenza numerica cosa che ugo nespolo è stato il primo a voler fare ad avere la possibilità di fare ed è stato anche capace di fare sistematicamente nei suoi dipinti puoi vedere la natura come dovrebbe essere nel suo cuore riducibile ad un dispiegamento di numeri colorati che si combinano in infinite varietà veri e propri atomi pitagorici che compongono il cielo l'acqua la terra le piante i fiumi gli uomini le strade cose e città in una parola il mondo intero ma si è molto bello super gioco è molto bello per gioco una persona molto accolta molto intelligente molto e molto sensibile anche devo dire si compi compi il giorno poi devo dire che un parte di questa mostra è andata anche a matera quando è stata capitale europea della cultura si le guardi la domanda che lei ha fatto quella di sapere se il rapporto fra l'arte e persone cosiddette esterne all'arte o studiosi e produttivo no è assolutamente produttivo io detesto i testi dei di coloro che fanno di mestiere il critico d'arte preferisco quasi sempre anche se sono di bravissimi intendiamo però a me non interessano tanto interessa mi interessa di più il pensiero di io sono amico quasi di filosofi io stesso sono laureato in filosofia di filosofi di di matematici abbiamo un piccolo gruppo con pier giorgio di freddi un gruppo molto curioso lo dico non ho mai detto nessuno lei si ricorderà l'ulipo che era il laboratorio di letteratura potenziale a parigi fatta da nemmeno che no noi abbiamo fatto a torino un gruppetto di 45 mattacchioni che si chiama appunto invece lungo po ma è l'apostrofo un go po c'è unione delliana potenziale tra l'altro di freddi un libro su del dedicato a noi che cos'è questo becci chi c'è dentro beh c'è pier giorgio di freddi maurizio ferraris con i maggiori filosofi italiani c'è professor conte con i più grandi matematici italiani eccetera poi c'è professor lolli che insegna la filosofia della matematica la normale di pisa poi ci sono io eccetera noi ci troviamo ogni tanto a dire qualche scemenza così no però per dire l'idea che sono siano tutti i personaggi strane diciamo al mondo dell'arte in sé non io ma poi naturalmente la prevalenza non è certo l'arte secondo me molto stimolante molto più stimolante che a prescindere che io dico sempre una cattiveri io di passare una serata con un artista ma neanche se mi pagano perché salvo qualcuno ovviamente qualcuno qualcuno lo passo molto volentieri come vai come certi personaggi ma se no c'è per sentirmi dire cioè quasi sempre con culture molto mediocre in molto semmai approfondire dei temi parlare di i quadretti non mi interessa nulla mi interessa parlare del punto con una differenza io stesso avevo fatto un libro questa una curiosità che dedico io quando lavoravo con arturo schwarz che è stato uno dei più grandi mercanti di tutti i tempi nel 67 ho fatto un libro di logica formale che si chiamava che si chiama verità e menzogno un'alternativa logica cioè ho fatto un libro sulla verifica dei sillogismi c'era un filosofo della materia sto andando fuori tema no no assolutamente era un filosofo della scienza a torino che si chiamava annibale pastore che modifreddi conoscono un filosofo era modo suo fino a ottocento primi novecento aveva scritto aveva fatto dei libri era un epistemologo quindi uno più legato alla filosofia anche come scienze eccetera io ho riscoperto questi libri ho trovato una cosa curiosa lui ha verificato i sillogismi aristotelici che sono 200 30 eccetera ma soltanto 18 sono veri la veridicità dei sillogismi sapere se sono veri o falsi quindi io avevo trovato aveva inventato delle macchinette praticamente delle ma delle macchinette in cui delle puleggie giravano se il sillogismo era vero se era falso poi erano stati trasformati in ideogrammi cioè in disegni io l'ho trovato questi disegni tanto sono esposti anche alle gallerie d'arte moderna sono da otto tavole grandi con tutti questi disegni dove ci sono queste questi circoletti per vedere se i sillogismi 18 i 18 sillogismi hanno tutti dei nomi medievali e latini eccetera quelli veri allora io le avevo poi ricontrollati rifatti con la logica algebra di bull e poi con diciamo con la teoria degli insiemi eccetera una roba di matematica diventato pazzo ho fatto sto libretto e ho fatto delle mostre con dei motorini che giravano per cui dicevo bene poi sto libro è dimenticato li ho fatto vedere i miei amici questi di che dicevo prima io dovevo fare questa scemenza ma non è mica una scemenza non vede una cosa simpatica vede che forse dentro di me c'è anche una vena un po di di studi più 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 scientifici che non ho mai sviluppato però io lo volevo dire non l'ho mai detto a nessuno è stato più che generoso e io la ringrazio per questa intervista sono stata onorata di aver avuto questo tempo con lei grazie mille grazie a voi grazie